Radio Punto Zero presenta Napoli Magazine Cominciamo con Diego Armando Maradona Junior. Ciao Diego, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te Michele, buon pomeriggio a tutti. Ti aspettavi a questo punto della stagione di essere praticamente fuori già da tutto, quasi da tutto, perché ripeto, resta l'Europa League ma il cammino insomma non è per nulla facile. No, direi di che io mi aspettassi una situazione del genere no, però purtroppo la luce dei numeri dicono questo e c'è da fare un esame di coscienza importante. Io credo che il Presidente abbia fatto la cosa giusta perché in questo momento credo che il Napoli debba ricompattarsi soprattutto appunto a vista del gruppo. Inutile dirti che chiaramente si sentono tantissime cose no? In questi giorni ognuno crede di sapere la motivazione di questa crisi del Napoli, crede di sapere tutti i motivi dentro e fuori al campo. Obiettivamente io non ho questa presunzione perché è molto difficile. Sta di fatto che il Napoli in questo momento è una squadra che purtroppo per il gioco espresso e per quello che sta dimostrando in campo merita la posizione che occupa. Probabilmente questa è la cosa più preoccupante Diego. Cioè il Napoli in questo momento non può recriminare nulla? No, io credo di no. Almeno in campionato sicuramente non può recriminare nulla perché abbiamo perso troppi punti con le squadre piccole, abbiamo sofferto troppo delle situazioni che vengono, che ci fanno soffrire da tanto tempo. Vedi le imbocate dei centrocampisti avversari, vedi l'uno contro uno in fase difensiva con i difensori soprattutto con gli esterni. Purtroppo il Napoli è una squadra che recidiva recidiva su certi errori, recidiva su certe situazioni. Per quanto riguarda la Coppa Italia, in genere quando le cose vanno male, poi dopo è più facile che vanno malissimo che meglio perché onestamente tutto questo lodare la Lazio, onestamente non ho visto una squadra che abbia messo in forte difficoltà il Napoli. Ho visto solo una squadra che ha voluto molto di più, con più cattiveria la vittoria. Poi chiaramente prendi due tiri in porta in questo periodo e prendi gol è anche normale. Assolutamente, no ma il problema Diego forse è proprio questo, cioè in effetti la Lazio ha giocato la partita che voleva, ha giocato la partita che voleva, mentre il Napoli non si capisce ancora che partita ha giocato, pur avendo avuto tante occasioni da gol, pur avendo sprecato veramente tanto, veramente tanto, la Lazio è venuta qui Diego per fare quella partita. Approfittare del classico errore che il Napoli offre sempre, non per nulla un attimo prima era stato bravissimo Andukar, sempre sull'Ulic ad evitare il gol, quasi alla stessa maniera, no? Cross dalla destra e palla sul secondo palo. Stavolta, nella seconda occasione, l'Ulic ha anticipato tutti a centro porta e ha messo in gol la palla della qualificazione. Però ripeto, cioè la differenza, e dici bene, la Lazio è venuta qui a giocare la partita che doveva giocare, pur essendo in svantaggio diciamo. Ma questa è una cosa, è una cosa chiara, no? Credo che l'abbiano, che l'abbiano visto tutti. La Lazio in questo momento in più al Napoli c'è solamente la cattiveria, anche perché io non ho visto questa Lazio con un gioco brillante come me la descrivevano, cioè palla a Felipe Anderson e vediamo che succede fondamentalmente. Però sono stati più bravi di noi sul punto di vista caratteriale, sulla voglia, sulla cattiveria agonistica che ci hanno messo, che hanno messo e è inutile ribadire, sai, in questo momento io sto sentendo moltissima critica su Benitez, no? Sì. E poca sui calciatori e magari sulla gestione. Io credo che l'allenatore sia importante in una squadra, perché sicuramente per me per me Pioli ha vinto la partita quando ha spostato Felipe Anderson dal lato di Goulam e credo che anche il più inesperto di noi abbia visto che Goulam non poteva tenerlo, non poteva tenerlo e lì è stata vinta la partita, quindi non riesco a capire come Benitez non abbia pensato a una contromossa. detto questo è un errore figlio anche del calcio moderno, perché magari se fosse successa 10-15 anni fa, si prendeva uomo e basta, oggi c'è questa regola, fra virgolette, di marcare a zona e questo l'abbiamo sofferto, anche perché vedi, continuano ad andare controcorrente, uno dei più criticati in questo periodo è Maggio, Felipe Anderson non l'ha saltato una volta in 70 minuti. Infatti, Maggio avrà probabilmente sbagliato qualche cross, ma sappiamo che non è il suo forte, però in effetti fin quando è stato, è stato sulla, quando è attaccato sulla sinistra, quindi sulla destra del Napoli, io sinceramente credevo che non giocasse nemmeno. Ma sai, i terzini e i difensori soprattutto vengono oggi giudicati da tutti quanti noi con la proiezione, pensando che tutti siano Piqué o Dani Alves o Terry. Purtroppo Maggio è un giocatore per me importante che fa della fase difensiva e della corsa il suo forte. Purtroppo oggi Christian, dal punto di vista offensivo, non sta attraversando un buon periodo, però voglio dire, non credo che sia lui il capo esperatore di una sconfitta che credo sia da dividersi per tutta la squadra. Per concludere quello che ti stavo dicendo prima, la Lazio ha avuto più voglia anche nel mantenere il risultato e non dimenticare, perché forse probabilmente poche persone ci hanno fatto caso, se non l'avesse presa a Lulic la palla di Insigni forse ci arrivava close. Certo. Erano due attaccanti, questa è una dimostrazione di grande voglia, una dimostrazione di grande voglia. Io sai, tu lo sai, quanto non mi piace parlare di quelle maglie, ma il giorno prima Chiellini per un calcio d'angolo quasi si fa buttare fuori. Eh vabbè. questa è la rabbia che che io non vedo in questo momento nei calciatori del mare. La differenza purtroppo Diego è tutta lì, cioè saranno antipatici tutto quello che vogliamo, ma bisogna imparare molto dalla Juventus. Per chiudere Diego, eh non ti chiedo di Napoli-Fiorentina perché ehm c'è non dire girarsi intorno, la partita basta, il Napoli adesso in questo momento deve semplicemente ritrovare se stesso, cercare di vincere quante più partite possibili in campionato e in Europa League. Quindi per questo non sprechiamo il tempo a parlare della gara contro i Viola. Ehm io però devo fare una domanda su un giocatore che amiamo tantissimo, non mi riferisco a Mertens, ma a Higuain. Ehm io personalmente ho molto criticato la partita di Higuain perché da un giocatore del suo spessore, del suo carattere, della sua bravura, mi aspetto, mi aspetto sempre qualcosa in più e non si vuole un atteggiamento così irritante come l'ha avuto in campo lui. Guarda, per quanto riguarda la partita di Roma, io credo che Higuain non stesse in condizione di poter giocare, ma anzi probabilmente Benitez è stato criticato perché l'ha tolto troppo presto per me, l'ha tolto troppo tardi domenica a Roma. Certo la partita contro la Lazio è insufficiente, voglio pensare che sia che sia dovuta a una, a un problema di diffuso orario e di stanchezza perché se no, se no dovremmo iniziare a pensare che certi giocatori non ci sono più con la testa e non, non credo sia vero. Però adesso fondamentalmente io forse dico una brutta cosa, mi interessa poco di domenica con la Fiorentina, certo meglio vincere come sempre, però adesso dobbiamo giocarci veramente tutto sull'Europa League, tutte le nostre le nostre forze, le nostre energie, sia mentali che fisiche che devono essere sull'Europa League perché è l'unica cosa che può salvare una stagione che se dovesse se dovesse terminare fra due settimane come tutti quanti non speriamo con l'eliminazione in Europa League, credo che più che fallimentare la potremmo definire una stagione tragica dal punto di vista calcistico, quindi speriamo che che almeno in Europa League i ragazzi possano possano trovare le giuste motivazioni. Ed eccoci pronti a ripartire, abbiamo qualche problema a rintracciare a rintracciare Silver Mele, ma ricordiamo c'è questa importantissima presentazione di questo libro firmato a quattro mani da Tony Giavarone e Corrado Ferlaino e siamo sicuri che ci sarà molto da dire e da chiedere, in particolare all'ingegnere Ferlaino, che meglio ricordarlo e comunque il presidente che ha vinto più di tutti, il presidente che ha portato i due scudetti e l'unica coppa internazionale vinta dal Napoli, quando l'UEFA contava ancora, quando l'UEFA era era una coppa importante che contava e come. Nel frattempo c'è l'ennesimo tweet di Pepe Reina, perché? Perché come sempre vengono fuori notizie che non stanno né in cielo né in terra, soprattutto quando ci sono giocatori che lasciano Napoli, spesso e volentieri si mettono in mezzo storie familiari. In realtà Pepe Reina, come sempre con molta sincerità e lealtà ha risposto, non è stato mai un problema familiare, anzi la mia moglie ama Napoli, lo stesso che io la amo, insomma è un italiano spagnolo, basta di scherzare, caro Pepe siamo siamo con te, forse probabilmente Pepe probabilmente sarebbe bello sarebbe bello insomma sentire e leggere un tweet sul perché, perché non non sei rimasto a Napoli, tutti lo sappiamo però sarebbe sarebbe bello, l'unico appunto che mi permetto di fare per il resto d'accordissimo. Buon pomeriggio al collega di canale 8 e 100% Napoli.it Paolo Del Genio, ciao Paolo buon pomeriggio. Ciao Michele, buon pomeriggio a te. Parlavo dell'ultimo tweet di Pepe Reina e quindi ti invito a no, so che ti invito a nozze perché e ne abbiamo parlato mercoledì sera dopo la batosta, non per le proporzioni ma perché l'1 a 0 della Lazio ha eliminato il Napoli dalla finale di Coppa Italia e abbiamo parlato un po' di quelle che potevano essere le cause, insomma per la verità ci siamo ridetti delle cose e forse anche il mancato rinnovo di Pepe Reina fa parte di questi errori che hanno compromesso una stagione che altrimenti avrebbe potuto dare grandi soddisfazioni al Napoli. Il mancato rinnovo di Pepe Reina, lo ricordiamo per chi ancora non lo sa, Paolo correggimi se sbaglio, è stato come dire causato da un mancato accordo tra le parti. Pepe Reina chiedeva io dico il giusto e probabilmente poteva anche fare un piccolo passo indietro su quanto chiedeva, il Napoli in realtà non si è proprio avvicinato. Ho sbaglio? No, Reina ha risposto a quello che ha detto oggi della Renzi, no? Sì, parlava della situazione familiare, non è per nulla vero che è andato via per motivi familiari. Vabbè, quindi praticamente scoprendo quelli familiari perché sono quelli economici, no? Ma come è normale che sia? Io non faccio quello che scandalizza. Nel mondo di professionisti, è normale che un atleta che ha qualche società, tra l'altro importantissimo, la migliore al mondo, che ti dà una cifra, tu per tenerlo dove sta, degli amici, ma perché la cifra è normale. Io non critico Reina, diciamo che il Napoli forse non ha avuto in quel momento la capacità di cogliere il rischio che si andava a sfumere, questo fosse stato il grande problema. C'è sperato che andava tutto bene e che quindi aveva evitato una spese notevole, dobbiamo dirlo, perché l'investimento del Rena sarebbe stato notevole, considerata anche l'età del calciatore, costo e cartellino. Ed era convinto evidentemente di avere il rapa e il portiere giusto per poter fare la stagione senza particolari problemi. Sono errori che a volte bisognerebbe chiamare con il loro nome, perché un poco di sana autocritica non sarebbe male se ogni tanto si facesse, invece di dire che la responsabilità è sempre degli altri o del fatto avverso. Credo che sarebbe anche, oltre a una cosa giusta, sarebbe anche una strategia di comunicazione per captare più simpatia, perché la gente diceva che ha sbagliato, può sbagliare, nessuno pretende la perfezione da nessuno. Questo credo che dovrebbe capire il Napoli in assoluto, che qualche volta fare un po' di mia colpa non significa autoclassificarsi come degli stupidi, significa ammettere di aver sbagliato. È normale nel calcio sbagliare, si devono prendere tante decisioni, figuriamo. Assolutamente, ammettere i propri errori poi credo, Paolo, faccia parte anche della crescita, insomma, cioè non ci sia veramente nulla di male. È normale, partendo dalla premessa abbiamo sbagliato, ma perché tutti sbagliano, chi non opera non sbaglio, diciamola questa frase fatta, che ha però una grande verità, no? Assolutamente, assolutamente, anche perché, Paolo, alle volte risparmiare su certe cose, abbiamo visto che non porta nulla, io sinceramente ripeto, io ho l'impressione che Correna siano stati fatti una serie di errori e purtroppo quando già parti con un ruolo importante come il portiere, con una X, perché per carità, nulla da dire su Raffael probabilmente è stato sfortunato in questa stagione, però è chiaro che se ti affidi a un portiere di grande rendimento, tra i migliori al mondo nel suo ruolo, è normale che lo devi pagare anche quanto vale, ma hai anche la garanzia, insomma, di non avere grandi problemi. Cosa è invece successo con Raffael? Diciamo che nel calcio, in modo di dire, quello napoletano, sparagno nel mai guadagno, potrebbe andare benissimo, perché nel calcio, a volte, se parli troppo, non sta scritto da nessuna parte che ti vada sempre bene, che ti può anche andare bene, però mi sembra che prima o poi qualche cosa non riesce. Quest'anno mi sembra stato quella stagione, dice, la stagione dove tutte le visioni, diciamo, del club, andrà bene questo, andrà bene quell'altro, Cagliacone si confermerà, quell'altro farà meglio dell'anno scorso, diciamo che quasi tutte non sono andate come si sperava, ma questo è il calcio e speriamo che Napoli capisse che questo è il calcio, che può arrivarti la stagione torta, che speriamo di radirizzarla nell'ultimo mese e mezzo, però per tanti segnali la stagione è nata torta e che è ricomplicata maledettamente nell'ultimo mese. Se l'è complicata un po' con le sue mani, però, Paolo, allora, io, 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 proprio per esigenza di sintesi, io la stagione del Napoli, fino ad ora, sperando e chiaramente ci possa essere qualche bella sorpresa da qui alla fine a cominciare già da giovedì prossimo, anzi, già da domenica prossima, dico, io l'ho sintetizzata così, De Laurentiis, quindi il Napoli, il club, ha fatto degli errori pesanti, pesanti a inizio stagione, Benitez, dal canto suo, non ha fatto quasi nulla o nel momento clou della stagione non ha fatto nulla per, come dire, rimediare a questi errori, ci ha messo anche del suo. Io credo che sia questo e credo che sulla società siamo da... Tu Benitez penso che quando è arrivato il momento difficile, è arrivato in maniera strana, cioè sono stati i piccoli segnali di la nuova partita e anche noi, anch'io, devo dire, ho pensato all'errore di Raffa, all'errore dell'arbitro, all'errore di Albiol, piuttosto che all'errore di Giorginio, però io posso permettermi questo lusso, perché tanto devo solamente parlare, se dico una stagione non creo nessun problema al Napoli, Benitez questo lusso non ce lo può permettere, deve cogliere queste situazioni negative, deve capire che sono troppe e deve dare una scossa alla squadra, questo è l'errore che ha commesso Benitez, non essersene accorto in anticipo, lì che ha tutti gli strumenti per accorgersene prima di noi, perché vive, prima cosa, perché è duecento volte superiore a noi come con noi, perché vive il contatto quotidiano con la squadra, è una grande esperienza nel calcio e doveva capire che uno più uno più uno, non è che è detto dal nostro sito da nessuna parte che improvvisamente questo uno più uno più uno, e sto parlando degli errori individuali, si interrompe, anzi per tutta la stagione si costa tutto. Quindi quindi insomma, secondo te perché Paolo è stata una questione di fidarsi troppo dei giocatori, dei giocatori e di se stesso sì, perché hai ottenuto sempre risultati perché la carriera di Benitez è un'ottima carriera, piena di buoni risultati, quindi lui con il suo metodo di lavoro sa di poter risolvere i problemi e quindi anche lui diciamo ha fatto un errore, era quello della società, quello dell'ottimismo e della troppa sicurezza, a volte sono pericolosi e a volte non ti va bene, si rivela non bumera. Paolo, domenica arriva una Fiorentina, Fiorentina che sta andando forte nonostante l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli però è comunque obbligato, prima di tutto vabbè, ad onorare il campionato perché lo deve fare, ricordando che ci sono tanti tantissimi milioni di tifosi che seguono la squadra azzurra e che quest'anno insomma stanno soltanto soltanto bevendo bevendo calici amari e poi perché comunque comunque bisogna bisogna mettere le mani avanti, qualifichiamoci in Europa League, insomma manteniamo la posizione per l'Europa League, per l'Europa e poi dopo dopo si fanno i conti. Ma sì ma non è proprio il momento di tirare Semindarca, mancano 9, io spero che manchi in tutto 14 partite, significerebbe aver centrato la finale di Europa League, il Napoli deve avere due obiettivi nella testa, deve cercare di arrivare a Varsavia e deve cercare di arrivare a Napoli-Lazio nell'esperanza che Napoli-Lazio possa essere decisiva, quindi per fare questo bisogna vincere, virgola vincere, virgola vincere, virgola vincere, sempre vincere e ci deve trovare questo attuale, non ci riesce, non ci riesce ma ci deve trovare, non dirò una parola banale, con maggiore determinazione, questo no perché non voglio entrare in questo discorso della determinazione, ma ci deve provare con la sicurezza di avere le possibilità poi, perché ce le ha questa squadra con tutti i suoi limiti, poterlo fare questo che ne abbiamo detto, invece in questo momento mi sembra quasi una sorta di rassegnazione, come dicevo intanto poi dopo arriva l'episodio spavorevole e non andrà come abbiamo pensato che sia a dare, invece questo non deve proprio passare nella testa di nessuno, né di Benitez, faccio un esempio, no? Cioè, Higuain che si gira disperato, che calcia il pallone lontano quando segna Pjanic, ho capito, ci siamo arrabbiati tutti, però che era il venticinquesimo, invece quell'atteggiamento mi sembra un atteggiamento di resa al venticinquesimo e finito, basta, non la riprendiamo più, in caso noi l'abbiamo ripresa pur costruendo tanto a Roma, perché non l'abbiamo ripresa pur costruendo tanto? Sì per limiti peccnici, ma anche perché quando si arriva negli ultimi venti metri bisogna avere o felicità che l'azione sta per apportarti al gol, non quell'atteggiamento già quasi vinto tanto non entra, questo mi sembra che in questo momento ci stia molto penalizzando, la Lazio è andata con grande ottimismo su quel pallone e lui ce l'ha messo dentro e Nessuno dei nostri ha avuto invece la pezza giusta per fermarlo, la stessa azione l'abbiamo fatta con Maggio e Higuain stava dietro, basta, non stava davanti, e sono centimetri, ma sono centimetri che ricambiano la stagione. Paolo, te la faccio alla fine la domanda, ha fatto bene quindi De Laurentiis a mettere tutti in castigo? Ma io non credo a queste cose, ma non è che non ci credo perché io mi formo le convinzioni sulla base di mie appunto, io ho scritto quella riferizione convinzioni, io cerco di andare con i fatti, la storia dice che i ritiri, oggi dice che non è punitivo, ma secondo me così si deve chiamare, perché è punitivo, è inutile che poi si chiama tornano le parole, è un ritiro punitivo, i ritiri puniti è che mi sono risolte le situazioni delle squadre, credo, no? ma credo che nell'80-90% dei casi una squadra gli si è meritata un ritiro punitivo, quindi era squadra in crisi di risultati, quasi mai ha cambiato la sua stagione dopo il ritiro punitivo, qui speriamo che avvenga, speriamo di essere in quel 10-20% delle volte che le cose cambiano dopo il ritiro, però insomma dire che questa è la ricetta dell'ultima le sarebbe troppo facile, no? C'è una squadra in crisi di ritiro punitivo e tutto sia giusto. che sia utile, ho spedissimi dubbi e a questo punto era diventato però forse inevitabile, questo sì, forse era inevitabile a questo punto. c'è una notizia sensazionale perché immagino già le polemiche che ci potranno essere, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il presidente De Laurentiis sarebbe pensando anche a un clamoroso ritorno in panchina, quello di Walter Mazzarri. Insomma, non so, non so se crederci o meno, però certo sarebbe veramente, veramente clamoroso. Ma diamo, auguriamo il buon pomeriggio al collega responsabile di Tony Diavarone punto it, ma soprattutto autore di un gran bel libro, un gran bel libro scritto a quattro mani con l'ingegner Corrado Ferlaino. Tony Diavarone, buon pomeriggio Tony. Ciao, buongiorno a te, grazie, grazie tante e grazie per i complimenti. Eh, eh, anche, anche il meteo oggi ti ha onorato perché credo che la cornice e la location che avete scelto credo sia stata la migliore per una giornata straordinariamente bella. Sì, magari ci ha sorriso dalla sua il comandante, quindi il comandante ha fatto sì che questa bellissima nave della SNAV fosse illuminata dal sole, la città fosse illuminata dal sole, insomma, e siamo contenti che, soprattutto dell'affluenza di tanti amici, di tante persone, di come sia ancora attuale e interessante il dibattito su questa figura che ha segnato un'epoca della nostra città, un momento storico, momento difficilissimo perché era il dopoguerra, si usciva da una tragedia, si usciva soprattutto da un momento molto, molto, molto problematico e difficile. E quindi inquadrare storicamente quel periodo, anche se ne io né l'ingegnere, siamo né storici né politici, credo sia stato un contributo doveroso e soprattutto il fatto di parlarne, di discutere e di avere anche una sorta di conflittualità dialettica con il professor Galasso, che di stirpe origine repubblicana è stato pregnante per quanto riguarda, diciamo, il suo dissenso storico e motivato nei confronti di quell'epoca. Naturalmente, come abbiamo anche spesso ricordato prima della presentazione del libro, Tony, è un libro che chiaramente ricorda la figura di Achille Lauro, comandante tradito, ma ecco, come dicevi tu giustamente vuole aprire anche un dibattito, uno squarcio su quella che potrebbe essere probabilmente la primissima risorsa di Napoli, io dico un po' anche della campagna, ovvero il porto di Napoli. Sì, questo è vero. La città attraverso Lauro e attraverso quel periodo vive un momento, un po' vive un momento dove ancora dobbiamo legarlo a quello che è la storia, oggi siamo ancora davanti alla cronaca di quella città, è trasformizzata e Napoli è riuscita in quel momento anche ad essere particolarmente impegnata su molti fronti. Lauro è stato anche un imprenditore, ha realizzato la prima flotta d'Europa, una flotta potentissima, ha dato a Napoli queste risorse che venivano proprio dalla risorsa principale, cioè il mare, è stato il presidente di un Napoli che iniziava il percorso del riscatto, non era più il Napoli sverfeggiato che girava per l'Italia, è stato un editore di un cimirante, oltre che editore del Roma, lui ha avuto l'intuizione di creare la prima grande televisione privata che è stata Canale 21. E speriamo, speriamo che ecco, la memoria, nella memoria del comandante Lauro, davvero Napoli possa, possa anche sbloccare un'impasse perché dobbiamo ricordare che l'autorità portuale eh di Napoli è ancora senza vertice, commissariati insomma e quindi c'è molto molto da lavorare ma probabilmente insomma la data si avvicina visto che il 31 maggio ci saranno le elezioni regionali e subito dopo forse si provvederà. Con noi stamattina c'era il sindaco Luigi De Magistris il quale nel suo intervento ha proprio toccato questo punto del del sbloccare la situazione attraverso la nomina del 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 presidente della portualità e guarda che comunque presente il presidente della camera di commercio Maddaloni c'è stata una convergenza tre due e questa già vogliamo dire insomma è una notizia praticamente. E beh e quindi probabilmente le acque le acque già iniziano a smuoversi il caso è il caso di dirlo così come speriamo possano smuoversi i toni le acque in casa Napoli acque molto molto agitate e in questo caso ecco un po' come una mossa da comandante Lauro. De Laurenti si è ripreso il Napoli visto che si fatica a trovare un leader ha detto eh visto che nessuno ci riesce allora il leader di questo Napoli sono io. Sì io credo che la mossa di Laurenti ovviamente abbia sparigliato un po' l'ambiente. Per quanto riguarda il ritiro io credo che il ritiro sia importante se c'è condivisione altrimenti il ritiro punitivo e passa secondo me può avere dei risultati differenti da come uno si immagina ma come possiamo dire noi siamo giornalisti fotografiamo la situazione e diamo il nostro parere la nostra opinione poi però alla fine ognuno di noi dentro ha la passione per una squadra piuttosto che per un'altra la nostra ovviamente è una passione legata al Napoli e quindi diciamo che ci anima la speranza che il Napoli esca in questi pochi giorni dal suo tunnel e già contro la Fiorentina riesca ad essere di nuovo quello che noi abbiamo immaginato e che abbiamo visto per un tratto della stagione e naturalmente e toni senza dimenticare che proprio oddio veramente la striscia iniziata già da tempo che però ecco la striscia possa cominciare proprio da domenica con la Fiorentina perché poi resta l'ultimo l'ultimo gancio a cui appendersi quest'Europa League passando però già da un primo da un primo stacolo da un primo step molto molto duro che è quello del Wolfsburg beh sì quello è appuntamento diciamo primario oggi come questi altri appuntamenti sono finiti insomma il Napoli purtroppo ha giocato al ribasso per quanto riguarda gli obiettivi nel giro di poco tempo ne sono sfumati perché erano due obiettivi possibili e raggiungibili perché io credo che il Napoli abbia una buona rosa abbia una rosa competitiva e che senza altro i ventitré punti che lo separano dalla Juventus gli otto e nuovi da Lazio e Roma siano un torto a quello che oggi è il Napoli quindi a questo torto bisogna porre rimedio io ti dico che quando nel calcio c'è una caduta è chiaro che i primi responsabili per definizione sono i calciatori ma questo ha anche due padri proprio per ruolo uno è il presidente perché è quello che ha il potere e quello che decide e l'altro è l'allenatore che invece decide chi va in campo di scegliere come giocare e quindi come si dice se i padri non sono capaci di educare bene i figli è normale che commettono che commettono degli errori. Certo. Tony per chiudere non ti voglio trattenere perché sicuramente sarai ancora molto molto impegnato ripeto in questa giornata comunque bellissima perché insomma mi dispiace non esserci stato ma purtroppo qualcuno doveva pur rimanere qui a preparare la trasmissione però c'era c'era Antonio quindi e quindi la rappresentanza era ai massimi livelli però chiaramente ecco questa questa stagione deve insegnare deve insegnare qualcosa perché non si può non si possono commettere gli stessi errori anche nella prossima stagione pur se si ripartirà casomai da zero se si ripartirà con un nuovo progetto non si può non si può continuare in questo modo diciamoci la verità un po un po improvvisato dove c'è un uomo che decide per tutti che il presidente e poi insomma si fanno scelte che spesso e volentieri lasciano anche un po un po così un po libidi perché non si vede questa continuità di progetto di progettualità che invece servirebbe. Sì io ho detto che il Napoli debba fare adesso a di là di come finisce questa stagione un passo importante quello di strutturarsi nel senso di creare per dirla come quelli che parlano le lingue è un management al di là del fatto che il proprietario resta sempre lo stesso e che chiaramente le decisioni definitive aspettano a lui il Napoli ha bisogno di una struttura societaria così come avviene in tutti i grandi club così come è avvenuto nel passato oggi in questi giorni noi celebriamo i 25 anni dell'ultimo scudetto diciamo che quella fase di quel Napoli quel Napoli vincente quel periodo purtroppo breve della presidenza della proprietà ferlaino fu contraddinta proprio dalla crescita societaria da come la società sempre strutturarsi cominciando da figure come Itola Lodi che iniziò questo grande progetto fino ad arrivare poi ai successivi passaggi con Moggi, Perinetti, Pavarese insomma e ovviamente questo ha consentito di gestire in quegli anni questa forza di rompente del Napoli il Napoli che dobbiamo ricordarlo quel Napoli era completamente attragliato dalle grandi potenze che non c'era solo la Juve allora c'era il Milan c'era l'Inter c'era la Juventus insomma ecco io credo che quello possa essere un percorso da seguire quello insomma ognuno è padrone delle proprie scelte del proprio destino ma credo che il Napoli debba difendere questa questo percorso anche perché crescendo sotto questo punto di vista crescendo strutturalmente può senz'altro aumentare quella risorsa fondamentale che è fatturato di un proprio l'ultimissima prima di ecco di presentarti leggevo questa notizia il Corriere della Sera mette tra i papabili anche Mazzarri ci credi a un ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli guarda conoscendo De Laurentiis e un po' conoscendo anche Mazzarri non mi scudo mai nulla però conosco De Laurentiis e so che De Laurentiis è difficile che ritorni tranne casi rari su le proprie scelte ma c'è però un qualcosa che ci può far capire che De Laurentiis a volte c'è indietro oppure un recupero lo fa il rapporto che ha con Eddie Rea ebbe un rapporto difficilissimo con Eddie Rea se tu ricordi bene questo rapporto è stato completamente ricostruito e io ti dico che se oggi Rea non ha allenato l'Atalanta probabilmente non dico che sarebbe già da queste parti ma poco ci siamo quindi nulla mi vieta di pensare che dopo i grandi dissidi con Mazzarri si possa essere ritornati diciamo che siamo un rapporto diverso questo però fa parte delle segrete cose del calcio che poi tocca a noi giornalisti cercare di capire e scoprire di scoprire Tony come sempre grazie in bocca al lupo e complimenti per il gran bel libro su Achille Lauro il comandante tradito Tony Giavarone Corrado Ferreino ciao Tony grazie buon fine settimana grazie speriamo di essere visitati nelle librerie e nelle edicole grazie Michele sicuramente sono stati ascoltatori Napoli Magazine e c'è il direttore di Napoli Magazine Antonio Perrezzolo buon pomeriggio direttore abbronzato direttore ci sei? No mi sono preso un attimo di di calma per rispondere dato che sto in attesa da un quarto d'ora quindi può essere che non hanno premuto il tastino per mandarmi in diretta. Paro Sibilla ho avuto problemi da risolvere risolti brillantemente questa mattina benissimo e quindi siamo di nuovo in carreggiata so che alla presentazione del libro di Tony Giavarone c'era the big win quindi già ha risolto lui tutta la questione so che è intervenuto Tony Giavarone poco fa quindi ci siamo divisi i compiti e noi presentiamo subito diamo il benvenuto subito al prossimo ospite Rosario Pastore fermi fermi tutti ritorno indietro riavolgo il nastro vai dato che so che lo stanno aspettando con molta attenzione perché voglio conoscere il suo pensiero di solito è il super pensiero scritto ma quello avverrà dopo Napoli Fiorentina adesso facciamo l'anticipazione in radio di quello che è accaduto chiaramente negli ultimi giorni e che sta accadendo tuttora proprio sul tempo reale quindi è un piacere e un onore ritrovare Rosario Pastore ciao Rosario buon poveriggio buon poveriggio a voi grazie io non purtroppo non sono abbronzato come il direttore nemmeno io nemmeno io è stato sulle navi oggi il direttore nemmeno io ho avuto ho avuto da fare cose cose tecniche però Rosario dell'Aurentis da una parte dice la stagione non è ancora finita non è stato un ritiro punitivo ma anche parlato di Pevereina dicendo che aveva fatto un'offerta importante e anche per motivi familiari legati alla moglie non non è rimasto a Napoli poi ha tweetato ha mandato dei messaggi sul suo profilo Twitter proprio Pevereina dicendo non è vero io e mia moglie amiamo Napoli il motivo è stato un altro io immagino di natura economica Napoli che non vive un momento semplice cosa fare adesso gettare tutto al vento Rafa Benitez che sembra non gradire questo ritiro a Castelvolturno però c'è una gara da affrontare con la Fiorentina importante poi c'è il Wolfsburg giovedì io capisco scusa io capisco Benitez che magari avrebbe gradito andarsene a Liverpool qualche giorno perché Liverpool gli manca tanto tant'è vero che è andato a Liverpool nei giorni precedenti una partita delicatissima comunque era Lazio senza pensare che quella partita andava preparata nei minimissimi termini comunque niente questa è la situazione ora io dico che De Laurenti sul quale ci ha ripensato perché giovedì sera giovedì mercoledì sera aveva parlato di ritiro punitivo ora è tornato sui passi ora dice non è più ritiro punitivo chissà che razza di ritiro è vorrei piuttosto dire questo sotto ieri Antonio Corbo il quale diceva ma diciamo la responsabilità sì sarà un po' del presidente sarà un po' dell'allenatore ma è responsabilità maggiore del giottore io non sono assolutamente d'accordo su questa tesi i giocatori hanno molti i giocatori del lupo hanno una sola responsabilità che è quella di essere mediocri ma questa non è una colpa se c'è qualcuno che li ha acquistati nonostante la loro mediocrità se qualcuno li ha presi per una squadra che dovrebbe essere grandissima come dovrebbe essere in Napoli non è sicuramente merito loro io mi ricordo che quando facevo quella giornalista prima di andare in pensione cioè non specializzata ma prima di andare in pensione se qualche editore fosse impazzito e mi avesse offerto la direzione responsabile di un prestigioso giornale io avrei accettato di corsa e poi chi se ne fregava di giornale anche se io non ero adeguato alla direzione responsabile di quel giornale quindi non ce la prendiamo con i giocatori con alcuni di giottori mediocri del Napoli prendiamoci con chi li ha acquistati e con chi specialmente ne ha avallato l'acquisto e sappiamo tutti chi è stato. Bene Rosario però tornando proprio all'eliminazione con Lazio cosa non ti ha convinto nella maniera più assoluta? Guarda ma non mi hanno convinto tantissime cose innanzitutto la scelta del coneggio la scelta iniziale di alcuni giocatori ma non mi hanno convinto ancora di più le sostituzioni. Noi inutili stiamo parlando sempre dall'inizio da due anni di questo fatto che Benitez non cambia mai niente che il suo credo cattolico apostolico romano è quello del quattro difensori due centratampisti e i tre tre mezze punte da punta diciamo che questa è l'impostazione dalla quale non non si non si esce ma benedetto Dio quando tu vedi che la Lazio ti sta in qualche modo mettendo sotto quando tu vedi che il tecnico della Lazio che è un ottimo tecnico il signor Pioli avendo visto che Maggio sta giocando alla grande gli sottrae il giocatore la mette sull'altra versante tu non fai niente come contromossa se lì che scrivi invece di agire è una. L'altra è quella di togliere i gabbiadini per mettere il sempiterno con il cajon. Il sempiterno ormai è una vita. Il sempiterno è straordinario Rosario guarda hai risponduto a un termine era caro veramente tanti anni fa è vero però rende sempre bene l'idea però sempiterno di solito si utilizzava anche un'accezione positiva correggimi se sbaglio cioè quando era utile invece questo cajon non è una vita che è dannosa addirittura alla squadra perché io vorrei sapere quanti palloni ha toccato a cajon e in tutto il tempo che arrivasse in campo se tu ti ricordi di avere in panchina un insigne che è guarito perfettamente e noi abbiamo parlato con i medici sappiamo che insigne per nostra fortuna sta bene e te ne ricordi di lui solamente negli ultimissimi minuti se insigne ti risponde con quell'azione travolgente che per poco non ti dà il gol immeritato diciamo la verità del pareggio e allora siamo lì cosa cosa vuoi criticare di questa di questa conduzione è una conduzione che è stata fallimentare e lo dicono i risultati ora siccome noi abbiamo la sindrome 82 che è una sindrome nata nel 1992 scusami nel 1982 quando i giornalisti dopo aver criticato giustamente la nazionale si trovarono spiazzati perché la nazionale cominciò a vincere e furono indicati come tra i tuoi della patria e da allora i giornalisti sono sempre prudenti e quindi abbiamo ancora una frangio di giornalisti la quale dice attenzione che il campionato ci sono ancora tanti partiti a giocare e poi c'è ancora l'Europa League. L'Europa League lo stiamo per affrontare il Wolfsburg cioè una squadra che si è appena magnata la Roma una squadra che viene da un paese che nella traduzione si chiama Borgo dei Lupi e che ha steso appunto completamente la lupa meritatamente e noi speriamo che di salvare la stagione contro il Wolfsburg. Io questo mi chiedo quindi diciamola tutta diciamo e scusami che questa conduzione è stata estremamente fondamentale ci si sono ci si poi vorrei tornare un attimo sulle parole del signor De Laurentiis il quale dice che non è un ritiro punitivo e intanto le postpartite quelle di oggi Rosario. Scusami mercoledì sera De Laurentiis parlava di distrazioni dei giocatori. Cos'è? I giocatori probabilmente vivono in una carigine fino a ottocento con Schemaxim con Schifo Fusanzà. No i giocatori vivono a Napoli a meno che non gli abbiano detto prima della partita con la Lazio sai che questi giocatori di Napoli fanno cose da parte. I giocatori di Napoli hanno un solo molti giocatori di Napoli non tutti per fortuna hanno un solo problema e lo ripeto ancora una volta è con la loro mediocrità. Quello che mi dispiace è che stiamo per perdere Iguain perché noi Iguain in queste condizioni non possiamo mettere da Napoli. Iguain a fine campionato pesterà i piedi e dirà io me ne voglio andare. Voglio andare una squadra degna di avere tra le sue fila uno che si chiama Gonzalo Iguain. Quindi andremo ci sarà qualcuno che sarà contento perché potrà contare tutti gli euro che entrano in cassa per la cessione di questo giocatore però ecco anche il futuro purtroppo per il momento io non lo vedo molto molto rosa. Ha trovato però questi 50-55 milioni anche se molti dicono. Hai detto niente poi potrà dire che c'è lo 300. Sento molti colleghi dire è facile trovare 50, arrivano squadre con 50-55 milioni. Beh se hanno questa facilità di acquisto acquistate anche Michele Sibilla no? Per una cifra simile siamo tutti contenti. Ma siamo tutti disponibili a essere acquistati a questi cifre qua. Soprattutto per questa cifra lo so. Soprattutto per questa cifra. Però io non posso non chiederti un'altra cosa molto attuale che i tifosi ci chiedono che riguarda proprio il futuro della panchina del Napoli perché si fanno tranzi nomi al momento quelli in poll sembrano essere Luciano Spalletti alcuni dicono che già abbia affrontato discorsi di mercato con De Laurentiis un biennale per lui chissà se è vero e poi Sinisa Miajlovic che chiaramente alla Sampdoria può godere della stima della società e di un progetto comunque limitato. A Napoli avrebbe chiaramente altre prospettive. Tra i due per chi voti? Guarda io a me i sergenti di ferro non mi piacciono. A me piacciono gli allenatori umani, gli allenatori che preparano le squadre adeguatamente e che hanno delle idee molto chiare. Quindi Miajlovic per la verità a me personalmente non piace molto. Spalletti è un giocatore che ha avuto un momento d'oro alla Roma, ha fatto delle buone cose ma che poi in seguito anche in Russia non ha fatto granché anche avendo a disposizione una grandissima squadra perché gli hanno speso milioni a morire. Io un nome ce l'ho in mente ed è quello di Vincenzo Montella che è uno dei nostri e che è uno che ha saputo anche a Catania a far vedere che ne capisci di calcio, far vedere che sa impostare una squadra, ha portato il Catania addirittura a giocare, a sviluppare un gioco tra i migliori in Italia. Quindi no, ripeto, ai sorgenti di ferro, sì ad allenatori che capiscano di calcio e che impostino la squadra secondo criteri ragionevoli e Montella secondo me sarebbe ancora la scelta migliore. Ho sentito parlare anche di altri nomi. Niente, al momento scusami se ti interrompo, dico per convincere Montella però, dato che anche di qualche ora fa, se non erro, ieri sera, la sua dichiarazione che a Firenze sta bene, che quindi il suo futuro sarà lì, chiaro, anche frasi di circostanza, però ecco per convincerlo a cambiare area secondo me serve poi un progetto molto ben definito e chiaro. Vedremo se poi si risolverà. No, dico, vedremo se si risolverà in tal senso, però è chiaro che servono grandi motivazioni per risollevare questa squadra e risollevare anche i giocatori che sinceramente in questo momento non vedo molto carichi, almeno questa è una mia sensazione, dall'esterno chiaramente non sono nello stratoio, non sono a Castelvolturno del ritiro del Napoli, però ecco conoscendo un po' la situazione credo che sia proprio così. Rosario, le sue conclusioni, però un briciolo di ottimismo dobbiamo averlo perché comunque domenica si torna in campo. In conclusione io dico che Montella, che è figlio della nostra terra, sarebbe veramente orgoglioso secondo me di creare qualcosa di nuovo nella sua città. Per quanto riguarda poi proprio la partita con la Fiorentina di domenica e di dopodomani, è una partita difficile chiaramente, anche perché la Fiorentina verrà arrabbiatissima per quello che ha di successo in Coppa Italia con la Juventus, dove ha perduto diciamolo tutta, una volta tanto tra la canzone e la Juventus, dove ha perduto giustamente, perché la Juventus è una squadra di mostri, una squadra che è un tripa carne, che non guarda in faccia nessuno, che va avanti e io mi domando quando è che gli arbitri finalmente lo smetteranno, capiranno che l'Eventus non ha bisogno di piacerini perché è troppo forte da sé e non ha bisogno di aiuti esterni. Quindi sarà una squadra che viene qui per giocarsela tutta la partita, una squadra che ha le sue ambizioni come dovrebbe averle ancora il Napoli, purtroppo ambizioni molto riduzionate dagli ultimi due mesi ed è una squadra che ha tra i suoi tiri un giocatore straordinario che si è trovato diciamo quasi per caso, direi quasi per caso, anche se non sapessi che in effetti Montella era convinto di questo Sala, di questo egiziano che ha fatto vedere cose da parte. Ho bisogno segnare dei gol a Sala che sono la fine del mondo, delle azioni personali, dei dribbling personali e delle conclusioni che sono da grandissimo campione. Quindi bisognerà stare molto attenti alla Fiorentina Domenica anche perché Montella è il primo che sa che il suo nome ora circola a Napoli, vorrà far vedere che potrebbe essere la scelta giusta. Pronti a ripartire, caro Antonio, con noi c'è Gennaro Gliezzo. Ciao Gennaro, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Grande Jenny, buon pomeriggio a te. Antonio, ma noi abbiamo, lo devo dire, noi non facciamo come il Napoli, noi siccome siamo una squadra da Champions, abbiamo due portieroni, due portieroni, caro Antonio, non uno, perché uno è Gennaro Gliezzo. Antonio, l'altro chi è? L'altro è un ex partire della Fiorentina, chissà per quale squadra farà il tipo, no, Domenica. Immagino una squadra con una maglia azzurra, vero Pino Taglia la tela? Buon pomeriggio a tutti. Ciao Gennaro. Ciao Ino. Come stai? Bene, grazie. Tu come stai? Non ce la mettiamo, non ce la mettiamo. Guardate, subito la dico, così vi do subito uno spunto di discussione molto bello. Così si fanno le squadre. Allora, chi prendiamo come portiere? Eh, prendiamo Pepereina e prendiamo Taglia la tela e Gliezzo, cioè così, dice. Abbiamo una porta fortissima in questo momento. Non so se mi siete resi conto, eh, tutti e due. Chi passa, chi passa? Mamma mia, mamma mia. O sbaglio, si fanno così le squadre. Diciamo che chi passava? Assolutamente. Oggi siamo dall'altra parte. Allora, partiamo un attimo da, partiamo da Pino. Pino, io faccio la stessa domanda a te e anche a Gennaro. È un momento delicato per il Napoli, fuori dalla Coppa Italia, in campionato si fa grande fatica. Ecco, adesso c'è la Fiorentina. Cosa bisogna fare anche perché la settimana prossima c'è il Wolfsburg e sappiamo che la squadra è in ritiro, quindi scelte volute da De Laurentiis che chiama tutti all'ordine. Sì, è un momento un po' particolare. D'altronde ne abbiamo parlato già tante volte del Napoli che è una signora squadra, ma manca di personalità e di carattere. Io penso che questo Napoli non ha un'anima, un'anima italiana, per non dire napoletana, no? Secondo me, in più non c'è nessuno che possa spiegare a questi ragazzi che cosa vuol dire vestire la maglia del Napoli e cosa vuol dire avere i difusi come i Napoli. E quindi manca quella scintilla che probabilmente negli ultimi anni c'è stata, anche grazie a Gennaro Diezza, a Paolo Cannavaro e via dicendo, ecco, lo stesso Aronica, ecco, erano i giocatori che quando andavano in campo magari una partita, la vincevano 2-0 sicuramente non si facendo rimontare. Manca, manca un po' di quello spirito, malgrado la squadra sia una buonissima squadra, hanno anche un grande allenatore, però ecco, se non hai quella cattiveria, quella personalità che probabilmente lo scorso anno la dava sicuramente Reina, quest'anno è mancata il Napoli in parecce occasioni, vedi uscita dalla Central League e poi tutti gli altri appuntamenti, mano a mano, siamo arrivati dal terzo posto, siamo scesi in classifica il campionato e siamo anche usciti dalla Coppa Italia. Quindi questo però non perde le brutte prestazioni, ma secondo me, solo perché è mancato quella scintilla quel qualcosa di voler raggiungere l'obiettivo e questo te lo dà sicuramente una guida importante che il Napoli, a mio parere, un parere personale, non ce l'ha in campo. Genaro, quindi manca un leader, no? È un po' questo il senso delle parole di Pino. No, ma io credo che Pino abbia detto una cosa giusta. In questo Napoli manca proprio il senso di appartenenza a questa squadra. Quello che magari davano i napoletani, come diceva Pino un po' un anno fa, come lo davano loro Pino e tanti altri che tanti anni fa, quando il Napoli stava in seriato antitane tanto tempo qua, diciamo una cosa che faceva la differenza era proprio questo, il senso di appartenenza è quello che fa capire a chi viene da fuori, agli stranieri, quello che significa interessare questa maglia. Io credo che prima di mettere in campo tutto quel discorso tecnico, tattico, io credo che in campo si deve mettere la grinta, la voglia di vincere, è quella che diciamo che lo dico anche molto volentieri perché sappiamo, è quella che c'ha un po' la, è quella che c'ha la Juve, è quella che fa vincere la Juventus, al di là della rosa che ha la Juve, la Juve ha un'arma in più, è la mentalità vincente, che è saputa anche, è stata anche trasmessa da un allenatore come Conte e che sta portando avanti adesso con Allegri. Pino, capitolo della Orentis, sfuriato dopo l'eliminazione della Coppa Italia, secondo te è stata tardiva oppure serviva un'intervento del genere? Ma ci sta, ci sta perché probabilmente ha capito che ha perso un'occasione importantissima perché tu sai che l'anno finale di Coppa Italia si aprivano tante situazioni importanti, sia economiche ma anche come prestigio per la squadra, per i tifosi e per l'ambiente. Purtroppo la sfuriata, diciamo che un'avvisaglia che è stata, se non sbaglio, dopo la partita con il Milan, che mi sembra che la squadra è stata mandata in ritiro, poi l'allenatore ha fatto sì che questo non succedesse. Però penso che avendo un allenatore del genere probabilmente che l'Aurentis non è stato molto presente, come sui fare, mi ricordo anche, penso se c'era Gennaro quando è successo un qualcosina con Reia, le sfuriate con Marino dopo la partita con l'Inter. Diciamo che lì è sempre stato uno vulcanico presente che bene o male lo spogliatore si è fatto sentire. Stranamente quest'anno, che proprio nei posti di Pobre c'era veramente bisogno qualche volta in più, non è stata fatta la squadra, perché questa squadra come in generale ha detto una cosa che purtroppo non dobbiamo ammettere, la Juve ha quel senso e quell'anima italiana e di appartenenza che la dobbiamo purtroppo prendere da esempio, siamo costretti a prendere da esempio la Juve. Vince perché c'ha una gran parte italiana che magari quando arriva uno straniero gli fa capire subito com'è la situazione, è molto più semplice, cosa che nel Napoli adesso non c'è più. Sono dei bravissimi giocatori a Napoli, ma non hanno una guida. Questo è il problema. De Laurenti, secondo me quest'anno probabilmente ha lasciato la situazione in mano a Benitez, ma è andato che è andata. Quindi secondo me Napoli avrà bisogno di qualche presenza in chiude del Presidente che va sotto nello spogliatore, magari dopo qualche percezione negativa. Jenny, ma com'era De Laurenti quando entrava per lo spogliatoio? C'era questa curiosità, se ce la vuoi raccontare oppure se si può dire chiaramente. Il Presidente, come ha detto pieno, è molto vulcanico e quando entrava tra, diciamo, tra l'attivazione del tempo sicuramente potrei che la mente calda era particolare, però diciamo che quando veniva a provarci magari prima dei partiti importanti o come dire, ogni volta che si faceva vedere, devo dire che comunque portava tanto entusiasmo perché è un uomo di carisma e io credo che quando c'hai una persona che ha questa personalità, un giocatore si sente anche magari coccolato, si fa bere sempre qualcosina in più e io credo che sicuramente la sua presenza magari intorno alla squadra può portare un po' di entusiasmo che in questo momento Napoli ha bisogno perché al di là di queste ultime nuove partite che mancano, il Napoli ha una competizione che gli può salvare la stagione che è quella dell'Europa League. Credo che il Napoli deve sfruttare al meglio tutte le occasioni per cercare di portare a Napoli questa coppa che manca da tanto tempo, che però ti dà anche la possibilità di arrivare in Champions League direttamente. Credo che in questo momento di difficoltà fare quadrato un po' tutti quanti, giocatori, società, tifosi, media, può dare una mano a questa squadra per magari regalarci questa ultima opportunità per portare qualcosa di importante in Napoli. Assolutamente d'accordo con Gennaro Iezzo. L'ultima curiosità invece la facciamo sulla panchina perché già si fanno tanti nomi per il dopo, Rafa Benitez al momento sembra in pole Luciano Spalletti, si parla anche di Sinisa Mijailovic come tipologia di allenatore. Pino taglia la tela, su chi punterebbe? La stessa domanda subito dopo per Gennaro Iezzo. A me piace Montella, però Spalletti è un grandissimo allenatore. Questo è un po' di anni che non è più in Italia, però ha fatto delle cose eccezionali, è un gran bel allenatore, sicuramente è un top allenatore. Mijailovic sappiamo che cosa sta facendo, è un ambiente come Napoli, non so che cosa succederebbe, perché poi questo è uno vulcanico, veramente uno che con i giocatori ha un rapporto particolare, se deve attaccare qualcuno al muro lo fa tranquillamente, quindi dipende dal tipo di squadra che poi dopo si... c'è l'allenatore importante, però c'è anche bisogno dei giocatori, questo sicuramente. Sono due allenatori che sinceramente dove cadi, non sbagli secondo me, quindi sono scelte importanti, sono allenatori che fanno sicuramente la differenza e lo hanno sempre fatto, Spalletti ha sempre fatto una sua carriera. Mijailovic si sta abituando e si sta intravendendo secondo me una carriera eccezionale come allenatore. Bernardo? Ma io ho gli stessi gusti di vino, a me piacerebbe vedere Montella sulla manchina del Napoli, perché crede che sia un giovane di grande futuro, ha delle belle idee, fa giocare le squadre in un modo divertente e mi piacerebbe tanto vedere vincente. Però diciamo che tra gli altri due Pino ha fatto una disamina precisa, giustamente Mijailovic ha un grandissimo carattere, però non so a che punto magari potrebbe servire quando aveva a che fare con campioni come Huguayim, come Hamasic e con tanti altri. Magari potrebbe avere qualche problemino a livello caratteriale. Invece per quanto riguarda Spalletti, credo che ha l'esperienza giusta, l'esperienza internazionale per guidare questa squadra. Però diciamo che a me piacerebbe vedere anche un Sarri sulla manchina del Napoli, perché è una grande sorpresa. No, è una grande sorpresa perché Sarri anche negli anni passati, anche quando eravamo in Terecci, era sempre un allenatore sempre con delle ideali precise e la sua impronta si è sempre vista in campo. E credo magari avendo a disposizione giocatori importanti potrebbe ancora far meglio. Però, ripeto, chi viene via un'importante che venga qua e dia un'assertata importante per portare Napoli con... Gennaro, scusami se ti interrompo. Soprattutto che dia un centrocampo a Napoli. Allora, Montella gioca con un centrocampo pazzesco, no? C'è Bortavalero, Ricciarro e tanti altri che sono dei campioni. Napoli il centrocampo non ce l'ha, penso, dai tempi di Pagni, di Napoli, di Alemao, un centrocampo romano, un centrocampo importante, un centrocampo che faccia veramente girare la squadra. Ho detto Montella proprio anche per quello. Montella prevenisce un centrocampo che gioca bene con giocatori che giocano benissimo con i piedi e anche giocatori che sono degli incontrizi, però che sono fenomeni. Cioè, capito? Allora lo devi convincere perché Montella qualche ora fa ha detto il mio futuro è a Firenze, resterò qui. È chiaro che sono dichiarazioni di facciata, magari, chi lo sa. Però, ragazzi, vategli una telefonata e lo portiamo a Napoli. Certo, perché queste poi sono decisioni che sparà la società sicuramente. Magari noi non è che passiamo i presidenti a Napoli, però... Il flash finale ve lo voglio fare perché siamo già oltre sulla provocazione. Non so se è una provocazione oppure può essere una verità del Corriere della Sera che dice tra i vari papabili c'è anche il ritorno di Walter Mazzarri. Sareste favore che ho riporto da Pino e poi Gennaro? Per l'abor di Dio. Lasciato questo. Gennaro, cosa hai da dire invece tu? No, vabbè, io ho avuto Mazzarri come allenatore, ha fatto delle grandi cose, però la minestrina scaldata credo che in questi momenti non vada bene, all'irà che non si discutono le qualità dell'allenatore. Oddio, come motivatore secondo me resta tra i migliori. Motivatore è un allenatore che ci fanno giocare a calcio, ci fanno crescere. Mazzarri ha fatto benissimo a Napoli. Secondo me abbiamo bisogno di... Ecco, questi tre allenatori che abbiamo parlato oggi, con più Sarri che ha detto Gennaro, ecco magari sono allenatori che fanno giocare. A Napoli ci vogliono allenatori che fanno giocare bene la squadra. Immaginate una squadra come l'allestita Montella a Napoli, con Borca Valera, diciamo, ragazzi. Dobbiamo fare gol, cioè, qua purtroppo nelle ultime partite non ti sto segnando la rovina, questo è il problema. Ci vuole spettacolo, spettacolo. A Napoli è uno stadio che vuole spettacoli, i diffusi vogliono spettacoli in campo, vuole gente che veramente, quando viene in campo, gioca con il coltello tra i venti. E allora, tutti in piedi, ragazzi, perché abbiamo oggi riempito le porte con due fuoriclasse, quindi un applauso speciale. A Pino Tagliatele e a Gennaro Aglietto che ci hanno onorato con la loro presenza quest'oggi qui a Napoli Magazine per un super finale di trasmissione. Grazie Pino, grazie Gennaro. Grazie a voi, ciao Gennaro, un abbraccio. Ciao Pino, un abbraccio. Radio Punto Zero ha presentato Napoli Magazine.